ahahahah prendi un mano per me aiuto? aiuto? no ahahah vabbè che c'è vabbè al massimo buttati giù se vede che può al massimo buttati giù come faccio buttati giù? evita i sassi per terra f***a il piso vabbè 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 ti credo quale sta al po' oh 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 mi stanno a correre aiuto Grazie.